Musica Cari telespettatori, benvenuti alla terza puntata di Occhio al Voto, il programma di Fano TV dedicato alle elezioni amministrative. Dopo aver avuto nei nostri studi i candidati a sindaco della città di Fano, iniziamo ad ospitare i candidati al Consiglio Comunale con i quali commenteremo anche l'esito delle primarie. Do il benvenuto a Teodosio Auspici, di Verdi Ribella, componente della coalizione Progressisti per Fano 2050, che appoggia la candidatura a sindaco di Stefano Marchegiano. Buonasera. Sara Cucchiarini, del Partito Democratico, che appoggia il candidato a sindaco Cristian Fanisi, vincitore delle primarie del centro-sinistra. Benvenuta. Buonasera. E benvenuta anche a Loretta Manocchi, di Fratelli d'Italia Fano, la coalizione di centrodestra sostiene la candidatura a sindaco di Luca Serefilippi. Buonasera. Buonasera. Buonasera, che questa sera vi farà le domande su diverse tematiche, è Silvano Clappis, giornalista storico del Comune dell'Ansa, per la quale ha lavorato per 30 anni. Grazie per la sua presenza. Passiamo alla vostra biografia. Teodosio, partiamo da lei. A 52 anni auspici, è nato a Fano, è sposato con Michele e dei padri di due figli, Alessia, 18 anni e Beatrice, di 13. Dopo la laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Ancona, Urbino ha conseguito l'abilitazione alla professione di commercialista. Dopo alcuni anni di impiego nelle industrie private del mobile e della metalmeccanica, svolgendo la mansione di direttore amministrativo, nel 2004 è approdato nel settore della cantieristica in un'azienda di Monteporzio come direttore generale. Nel 2015 ha fondato un'azienda specializzata nella costruzione di yacht di lusso per i più importanti brand del mondo, attualmente da lavoro ad oltre 80 persone. Per quanto riguarda la politica, già da ragazzo si è impegnato nelle fila del PC, ricoprendo la carica di segretario di Fano, della Federazione Giovanile Comunista Italiana, per poi aderire prima a Rifondazione Comunista e poi al Partito dei Comunisti Italiani. A livello cittadino, nei primi anni del 2000 è stato il fondatore di Sinistra Unita Fano, nel 2014 poi, facendo parte della coalizione vincente, è stato nominato prima vicepresidente, poi presidente di Aset Holding S.P.A. e vicepresidente di Aset Entrate, rimanendo in carica fino al 2017 e portando a conclusione il processo di fusione tra la Holding e Aset. Nel 2019 si è candidato a sindaco di Fano con la propria lista sinistra per Fano, evoluta nella lista Fano Ribella, che si presenterà alle prossime amministrative a sostegno di Stefano Marcheggiani con la coalizione Progressisti per Fano 2050. Andiamo avanti con Sara Cucchiarini. È nata a Fano l'11 marzo 1981, laureata in storia dell'arte contemporanea alla Sapienza di Roma, ha conseguito il master in gestione di sistemi turistici e marketing dei beni culturali. Vissuta tra Pergola, Fabriano e Roma, da 15 anni è tornata a Fano, dove lavora come responsabile marketing di un'azienda locale. Appassionata di politica e diritto sin da giovane, ai tempi delle scuole, è stata eletta per diversi anni rappresentante di classe e poi rappresentante di istituto. Ha militato nei comitati studenteschi e universitari e ha fatto parte di diverse associazioni di volontariato. Nel 2013 ha contribuito alla creazione del centro-sinistra Fano. Nel 2014 è stata eletta consigliera comunale ed ha svolto il ruolo di presidente della Commissione Affari Istituzionali. Nel 2015 poi è stata eletta nella Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, ruolo confermato anche nel 2020. Inoltre l'anno precedente è stata nuovamente eletta nella consigliatura di Massimo Seri, che l'ha nominata assessora con deleghe finanza e patrimonio, pari opportunità, polizia locale e servizi interni. Ha sempre militato nello stesso partito, quello democratico, nel quale ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali da presidente del partito e componente degli organismi direttivi. Appassionata di giornalismo e comunicazione, ha curato la pubblicazione di una ricerca storica documentale sulla Moretta di Fano. Molto del suo tempo è dedicato alla vita pubblica e all'impegno sul territorio, nella vita privata ama curare gli affetti delle proprie amicizie della famiglia, soprattutto Giacomo, col quale convive da diversi anni insieme a Puffetta, la loro gatta. Loretta Manocchi, 47 anni, è sposata con Roberto ed è mamma di Giovanni, di 11 anni, è avvocato e consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro. Amante del mare e di tutti gli sport nautici, ha conseguito il brevetto da subacqueo e da aiuto istruttore vela. Attualmente è vicepresidente di un club nautico fanese. Inoltre, per anni ha giocato a tennis, ricoprendo ruoli di rappresentanza nel club di riferimento ed è stata presidente e tesoriere per la sezione pesarese di un'associazione internazionale femminile. Oggi è consigliere dell'associazione. Manocchi è stata eletta al Consiglio Comunale di Fossombrone per due mandati nelle fila di alleanza nazionale, risultando tra i più votati, sempre dalla stessa parte. Ha ricoperto ruoli dirigenziali nel partito. Già vicepresidente provinciale di Fratelli d'Italia nel 2014, oggi è segretario politico di Fratelli d'Italia Fano, membro del direttivo provinciale e responsabile provinciale del Dipartimento Tutela Vittime. Alle amministrative si presenta come candidato consigliere a sostegno della coalizione per Fano di centrodestra, dunque per Luca Serfilippi sindaco. Loretta Manocchi punta a spendersi per far sì che la macchina amministrativa possa essere tale da rendere più agevoli le procedure per favorire l'economia, il turismo, i servizi tutti in genere e, ha detto, per ridare a Fano il valore che merita. Queste le biografie appunto dei candidati presenti. Ora riguardiamo insieme i risultati delle primarie, quelli del ballottaggio che è stato vinto per un soffio da Cristian Fanesi del Partito Democratico. 1.700 sono i voti ottenuti da Fanesi, che ha ribaltato il risultato del primo turno, appena 3 in meno, 1.400 le preferenze ottenute da Mascarin, 8 le schede bianche e 3 quelle nulle. In totale, dalle 8 alle ore 20, ieri hanno votato circa 1.000 persone in meno rispetto al primo turno, un calo complessivo anche rispetto alle primarie del 2014. Il prossimo appuntamento con le urne, ve lo ricordo, è per l'8 e 9 giugno, quando si sfideranno Fanesi e la guida del centro-sinistra, Marchigiani per la coalizione dei progressisti e Ser Filippi per la coalizione di centro-destra. Manocchi, partiamo proprio da lei. Come commenta l'esito delle primarie? Beh, innanzitutto, come diceva lei, il dato incontrovertibile è il calo dell'affluenza alle primarie rispetto alle passate. Indubbiamente il ballottaggio di ieri hanno determinato la partecipazione di, diciamo, di oltre un terzo rispetto a domenica scorsa. Questo, indubbiamente, fa capire che coloro i quali avevano sostenuto le civiche di Etienne Lucarelli, piuttosto che di Cora Fattori, non hanno ritenuto, diciamo, dover partecipare al ballottaggio di ieri, evidentemente non riconoscendosi in qualche modo nei candidati che appunto sono Fanesi e sono stati Fanesi e Mascherin. C'è sicuramente un disorientamento per chi ha sostenuto altri candidati e, oltre al dato appunto della mancata partecipazione in modo massiccio e soprattutto il calo di ieri, secondo me determinano il fatto che non ci sia unitarietà nel centro-sinistra sulla scelta del candidato sindaco e nella figura che dovrebbe appunto guidare la coalizione di centro-sinistra. Auspici, passiamo a lei, un suo commento, due minuti a disposizione. Chiaramente concordo con quanto appena detto da Loretta perché indubbiamente le persone che sono andate a votare, poi la politica alla fine, i numeri fanno parte indiscutibilmente, quindi calo nel ballottaggio di oltre un terzo, o di circa un terzo, già su un dato molto ristretto. Noi la settimana scorsa già avevamo mandato un comunicato dove, posso dire che avevamo fatto questa previsione, 2.000 votanti, che cosa servivano queste primarie? A ridividuare il candidato della maggioranza uscente a sindaco. Quindi si andava a ricercare una legittimazione, che in teoria doveva essere una forte legittimazione, verso le persone, cioè data appunto dal sostegno. Questo non c'è stato, non hanno scaldato i cuori dei cittadini o dell'elettore delle primarie. Pertanto io direi che non posso far altro che ribadire un giudizio negativo, non voglio dire un flop per il grande rispetto che ho per le persone che sono andate a votare, però è indiscutibile che il candidato che ne esce è un candidato dimezzato, come gli altri, poco legittimato, e che questa scarsa partecipazione conferma quello che è il giudizio verso questa amministrazione. Perché è indubbio che il passaggio delle primarie sia anche il momento di un giudizio. Un giudizio che, visto come sono andate, direi che avevamo ragione in esprimere un giudizio critico e che quindi bisognava proporre ai cittadini infanesi un potenziamento, un allargamento alla coalizione. Questo non è stato possibile, ma noi abbiamo il nostro candidato e andremo avanti così. Vediamo però se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, questo confronto con il centro-sinistra ci sarà per un eventuale allargamento dell'alleanza. In ogni caso, il Partito Democratico ieri è risultato vincitore. Cucchiarine, che cosa ne pensa? Qual è il suo commento? Mi rifaccio a questa introduzione di Simona. Il nostro candidato sindaco, Cristian Fanesi, che è risultato vincitore dai passaggi di domenica scorsa e di ieri, ha già chiamato il candidato sindaco dei progressisti, i marchegiani stamattina, quindi come promesso, come aveva promesso nei giorni scorsi. Io non posso che dire che sicuramente la politica è cosa articolata e i miei colleghi che con me si confrontano oggi alle vostre tv lo sanno bene. Ci siamo messi nelle condizioni di far parlare agli elettori, le elettrici, le fanesi e i fanesi e credo che 3.000 persone che sono venute in due domeniche diverse, di sole, con una bella possibilità di fare altro, siano comunque un dato da rispettare. E sono anche comunque una possibilità con la quale noi ci confrontiamo verso la città che nessun altro ha messo a disposizione. Per cui l'esercizio della democrazia è cosa complicata. Sicuramente io sono uno di quelli che ha sostenuto che sarebbe stato più utile un'opportunità, diciamo, quella di allargare la maggioranza con metodi di, diciamo, dialogo e di confronto. Questo non è stato possibile in questo primo passaggio perché negli uni e negli altri hanno trovato punti di convergenza sufficientemente convincenti. Questo però non è detto che non debba avvenire perché credo che il programma che, diciamo così, contraddistingue il nostro operato, gli obiettivi che si dà al centro-sinistra sia molto vicino a quello dei nostri amici del Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo visto con alcune azioni all'interno del Consiglio Cunale, ma anche di grande parte dei progressisti. Per cui direi grande risultato. Abbiamo un candidato assolutamente legittimato che è un candidato democratico, Cristian Fanesi. Lavoreremo convintamente, tutti quanti, unitamente per farlo. Dunque, per garantire lo stesso spazio a ciascun candidato continueremo ad utilizzare un timer. Silvano, a te. Bene, cominciamo adesso con le domande. Partiamo dalla prima domanda che riguarda ovviamente la cronaca. Il problema della sicurezza è rimbalzato più volte sui media locali nelle ultime settimane, tanto che anche il Comune ha ritenuto opportuno fare un convegno nei giorni scorsi, soprattutto per quanto riguarda appunto la violenza giovanile. Qual è il vostro pensiero in proposito? Comincia a rispondere auspici. Il tempo dedicato a voi per questa domanda è di tre minuti. Quindi auspici, poi cucchiarine, poi manocchi. Prego. Ma sì, come stavi ricordando, c'è stato anche questo convegno interessante. È indubbio che c'è l'esigenza di fare una diagnosi della situazione di Fano per comunque rendersi conto realisticamente di quelli che sono le cause, i disagi presenti in città, quali sono le ragioni per le quali succedono queste cose. Sicuramente è stata anche un'occasione per ribadire la vicinanza verso le forze dell'ordine, la polizia urbana. C'era anche la comandante dei vigili urbani, della polizia urbana. Quindi sicuramente la percezione del problema della sicurezza un po' riflette un po' la pancia anche dei cittadini. Un conto è la percezione e un conto, a mio avviso, della situazione reale. Ci sono dei problemi, però da qui ad arrivare a dire che Fano è una città insicura, ne passa. Sono state fatte anche delle cose importanti, perché come abbiamo sempre detto l'attuale amministrazione non è che ha sbagliato tutto. Ci sono state anche attenzioni con le telecamere presenti in città, l'installazione che sono state sempre utili a. Probabilmente però dobbiamo entrare con uno studio più approfondito, sociologico, diciamo su quelli che sono appunto i temi. Gli organici delle forze dell'ordine, anche il nostro candidato Stefano Marcheggiani l'ha detto più volte, il Comune deve svolgere un'azione di stimolo perché ci siano, come dire, dei continui riferimenti anche al nazionale per implementare le forze dell'ordine presenti nel territorio. La presenza sui posti un po' nevralgici della città è fondamentale. La presenza fisica di personale. Noi pensiamo che da questo punto di vista anche, come dire, rimettere al centro i quartieri sia importante con un'assemblea di quartieri, non fra di noi le nostre compagini di progressisti abbiamo proprio la lista civica alla fanno dei quartieri e anche la pulizia urbana di quartiere, la presenza può essere un deterrente importante. È chiaro che va analizzato questi giovani, quali sono i problemi, c'è un'integrazione da attuare, però insomma adesso non bisogna nemmeno precipitare la situazione. Presidio, socialità, centri di assistenza e di aggregazione nei singoli quartieri saranno fondamentali per tutelare la tranquillità giusta e legittima che vogliono i nostri cittadini. Grazie, auspici. La parola a Sara Cucchiarini. Mi trovo d'accordo con auspici su questo approccio moderato e pragmatico rispetto comunque al tema della sicurezza. Noi possiamo parlare di quello che abbiamo comunque fatto negli ultimi anni, parlano i fatti comunque che negli ultimi 3-4 anni soprattutto sono stati fatti investimenti assolutamente importanti, implementando un sistema di telecamere che quando la centrodestra ci ha consegnato la città dieci anni fa contava quattro telecamere, due non funzionanti. Oggi abbiamo un sistema di 165 telecamere di ultimissima generazione con un investimento di centinaia di euro fatti con la finanza locale e alcuni progetti che siamo riusciti a condividere con il Ministero. Abbiamo fatto un investimento importante in due importanti punti radio diciamo all'estremità della città, Monte Schiantello e Monte Giove. Questo permette di implementare in modo strutturato e solido tutto il sistema della rete di protezione civile e di sicurezza, quindi non solo della polizia locale, le forze dell'ordine, ma tutto quello che è il sistema del COC, perché se saltasse tutto ci sarebbe comunque la possibilità di un collegamento radio con due canali radio esclusivi per il nostro COC, per le nostre necessità territoriali. Abbiamo fatto un importante investimento di oltre 500 mila euro solo negli ultimi tre anni, ma che supera questa cifra con un'entrata in organico di 25 nuove unità di agenti di polizia locale proprio perché, come diceva Auspici, c'è la necessità di dare risposte ai quartieri, la necessità di far vedere che i vigili ci sono. I vigili fanno tutto, meno che le multe dei divieti di sosta. Voglio ricordare che le multe nei parcheggi li fanno praticamente solo agli accertatori della sosta di Asat, perché il corpo della polizia locale è impegnato in ben altri servizi come quelli integrati con le forze dell'ordine. C'è una collaborazione strettissima tra polizia e commissariato ma anche comunque il comando dei carabinieri e questo è stato suggellato e riconosciuto in modo importante. Per noi è stata veramente una gratificazione grande proprio nel convegno al quale si faceva riferimento prima dove il nuovo questore, la dottoressa Monterali, è venuta a testimoniare che lo stato di sicurezza della nostra città è un livello elevato, che ha fatto il plauso all'amministrazione riconoscendo che ci prendiamo responsabilità, che a volte i sindaci sono soliti scaricare ai questori e che abbiamo fatto molto per questo territorio. Quindi io mi auspico e magari a questo ci potrà rispondere dalla nostra collega Manocchi che il governo, la Meloni, possa comunque implementare l'organico delle forze dell'ordine che sono in sottorganico. Bene. Bene, io ritengo che indubbiamente il tema della sicurezza è uno dei temi più sentiti, uno dei più sentiti dai cittadini che vivono sulla propria pelle, diciamo, ecco, la vivibilità della città. Non mi piace fare assolutamente dell'allarmismo gratuito, strumentale e fazioso, però mi piace anche dire le cose in maniera realistica come sono. Abbiamo nel corso di questi anni assistito a diversi episodi di violenza e l'epilogo di qualche tempo fa, di spaccio di sostanze stupefacenti e di uso di alcol in pieno giorno nel pieno centro della città, penso a Piazza Amiani. Peraltro noi siamo, come Fratelli d'Italia, intervenuti più volte sul punto e ricordo che ci sono delle scuole, la Padalino, la Gandiglio, e quindi è un fenomeno che in qualche modo rendono insicura una città, ma creano un allarmismo nelle famiglie, nei genitori, di chi passeggia con il proprio figlio e chi sa che il proprio figlio frequenta le scuole proprio in un contesto del genere. E non solo nel centro città, ma anche i quartieri, in questa campagna elettorale, nel tour di ascolto, in tutte le frazioni, in tutte le perferie, in tutti i quartieri, a più riprese i cittadini ci segnalano, per l'appunto, ci segnalano questo fenomeno, soprattutto laddove ci sono zone che non sono ben illuminate e che non sono ben attenzionate. Quindi, indubbiamente, passa la tutela e quindi la sicurezza per una riqualificazione urbana profonda, puntuale, con illuminazione, con creare anche maggiori eventi che determinano la massima partecipazione delle persone e che rendono, pertanto, in misura ridotta le zone, chiamiamole così, d'ombra. Anche Fratelli d'Italia ha organizzato una tavola rotonda, un dibattito anche con i sindacati delle forze di polizia per attenzionare massimamente questo aspetto. E una delle nostre priorità come coalizione del centro-destra è quella di adottare un'ordinanza che vieti l'uso del vetro. Perché anche ieri, ad esempio, passeggiavo e trovavo del vetro un po' dovuto dalle serate dei giorni precedenti, un po' in giro per la città, ma non sotto un profilo solo del decoro, ma proprio per la sicurezza in quanto tale. Segnalo anche che questo decoro, e faccio riferimento al polmone verde della città di Fano, che sono i passeggi, anche lì abbiamo fatto addirittura un flash mob dove ci sono delle situazioni di bivacco a cielo aperto e quindi la riqualificazione, il decoro urbano, che sono un po' il biglietto da visita di una città, sono una delle nostre assolute priorità che passano anche per delle azioni e degli interventi. Per quanto riguardano le multe, sono raddoppiate, quindi ok, questo è un dato oggettivo che c'è e che però anche con la Polizia Municipale bisognerà appunto riempiegarla per quello che riguarda una presenza sul territorio più puntuale. Bene, passiamo ora alla seconda domanda e rimaniamo sempre in tema di attualità e guardiamo un attimino anche alle lamentelle della gente, in particolare la gente si lamenta soprattutto per quanto riguarda la manutenzione e la cura della città, mi riferisco soprattutto alla situazione delle strade, delle varie arterie, sia quelle principali che quelle secondarie, ma mi riferisco anche alla cura del verde cittadino perché ne va dell'immagine complessiva della città. Ecco, la domanda ovviamente è quale soluzioni prospettate per questa situazione, vi ricordo che avete in questo caso solamente due minuti per rispondere e inizia Sara Cucchiarini, prego. Le strade sono un tema assolutamente sentito dalla cittadinanza, di questo ne siamo ben consapevoli ed è per questo che in questi anni come amministrazione abbiamo avuto la possibilità di investire nel corso degli ultimi anni ben 18 milioni di euro negli investimenti per la riqualificazione e le riasfaltature, c'è in cantiere un progetto di asfaltatura che partirà a giugno, col finanziamento non appena avremo approvato il rendiconto, quindi 4 milioni di euro di nuovi asfalti proprio un po' in tutta la città perché c'è una richiesta assolutamente diffusa e c'è anche comunque la necessità di dare risposte nell'immediatezza, in quelle che sono comunque le piccole manutenzioni, non solo le grandi asfaltature e su questo credo che si possa molto di più potenziare quello che è il global service realizzato negli ultimi anni con un investimento importante che siamo andati a riconfermare pochi giorni fa in giunta che verrà riportato nel prossimo Consiglio Comunale perché le piccole manutenzioni sono sentite quasi quanto le grandi asfaltature perché poi ci sono incidenti, biciclette, si cade, le assicurazioni poi il Comune le paga, per cui è un tema sul quale bisognerà bisognerà essere ancora più presenti, a mio avviso anche la prossima amministrazione dovrà investire ancora di più se ci sarà la possibilità e non saremo stretti dal patto di stabilità. Questo penso che sia una risposta che tutti si aspettano. Nell'immediatezza comunque partiranno proprio nei prossimi giorni 500 mila euro di nuove asfaltature che accompagneranno anche comunque alcune azioni in alcuni quartieri e territori e anche il Giro d'Italia. Bene. Lorita Manocchi? Sì. Allora, sul tema delle asfaltature mi sento di sottolineare l'importanza di non fare azioni diciamo un po' frittolose che sono generalmente rappresentate dal togliere la prima parte del manto, riproporre poi un asfalto che generalmente diciamo una durata limitata nel tempo se non si ritorna un po' alla vecchia maniera e cioè alla pulizia delle cunette, alla pulizia diciamo delle chiaviche che determinano poi che cosa? L'assetto stradale tale che poi mantenga, riesca a mantenere l'asfalto fatto perché molto spesso e questo peraltro ripeto proprio anche in questi giorni ascoltando i cittadini viene segnalato più riprese con le abbondanti piogge poi le strade vengono diciamo, smottano e quindi comunque tutto quello che afferisce insomma l'assetto stradale, il manto stradale e quindi di lì a poco chiaramente quello che è stato fatto, l'intervento che è stato fatto di asfalto dura relativamente poco quindi è una visione un po' più attenta dell'intervento, stessa cosa dicasi per chiaramente per il verde, oggi assistiamo a queste bellissime giornate a in più parte della città erba alta e quindi è necessario questo anche ai fini del decoro urbano, lo faremo attraverso volendo ripristinare i consigli di quartiere anche tramite l'aiuto dei quartieri stessi con associazioni che in qualche modo ovviamente debitamente assicurate e pagate possano coadiuvare l'amministrazione comunale in maniera puntuale con quello che appunto è il taglio dell'erba e anche sulla manutenzione mi sento di dire che un azionato rivolto a una segnalazione immediata ad esempio anche di una semplice buca piuttosto che un intervento su una strada da fare nell'immediatezza, penso anche a un segnale di velto possa essere utile per l'amministrazione comunale per un intervento puntuale immediato Bene, grazie, chiudiamo questo giro con Tardosio Spiro Nel nostro tour insieme al nostro candidato Stefano Marchegiani nei vari quartieri è indiscutibile che il decoro urbano per le persone, per i cittadini passi per lo stato di manutenzione delle strade e del verde pubblico oltre che per piste ciclabili anche marciapiedi potremmo ovviamente aggiungere indiscutibilmente l'attenzione e gli investimenti dovranno essere importanti nella prossima legislatura questa legislatura ha avuto anche la fortuna di operare senza la stretta del patto di stabilità e magari anche con delle abbondanti risorse del PNRR quindi magari qualcosa in più si poteva fare vediamo che in questi giorni ci sono diversi interventi ne siamo contenti anche nella zona industriale che io frequento ogni giorno e in ogni occasione ricordo che è un biglietto per la città dove vengono tante persone, clienti, operatori Via Inaudi è oggetto di un intervento in questi giorni non mi piace che siano sempre questi interventi dell'ultimo secondo diciamo quelli che sembrano un po' elettorali anche perché poi la gente se ne accorge però vorrei dire che la ordinaria manutenzione è quella di cui stiamo parlando in questo momento cioè il politico assolutamente se ne deve occupare ma gli uffici sono le persone, le risorse e gli organi preposti a compiere questa ordinaria manutenzione perché è la base dell'attività perché la gente paga le tasse e vuole vedere dei risultati toccherà quindi assolutamente implementare un ufficio manutenzione all'interno dell'ufficio tecnico dargli risorse, dargli possibilità anche autonomia perché ribadisco è l'ordinaria manutenzione e nei primi 100 giorni con le assemblee di quartieri che noi vorremmo fare daremo grande importanza anche a tutto quello che dai quartieri ci arriverà come feedback, necessità e penso che sia un modo buono per migliorare questo aspetto Bene, grazie auspici avete parlato ovviamente tutti di bel tempo in questi giorni quindi parliamo un attimo anche di turismo come una delle voci più importanti della nostra economia però ecco quando si parla di turismo bisogna anche parlare di ricettività e quindi di strutture alberghiere che in effetti sono abbastanza scarsi perché ovviamente il turismo non si fa con il mordefugi ma si fa con i pernotamenti ecco quindi che cosa proponete voi per questo settore soprattutto che appunto diventa fondamentale per l'economia della nostra città avete a disposizione questa volta tre minuti ciascuno direi di iniziare sempre con Lorita Manocchi Il turismo chiaramente rappresenta uno dei primi volani che afferiscono alla città di Fano sotto un profilo economico e d'immagine della città stessa qualche tempo fa un signore che ha lavorato per tanti anni fuori che oggi rientra Fano da Fanese mi dice Fano è una città non di mare con il mare ecco quindi probabilmente passo un messaggio diciamo da un punto di vista turistico che va sul deve necessariamente comportare un rilancio una visione diversa e molto più forte per rilanciare tutta la città durante il carnevale sentivo ricordo le parole dell'assessore Tiel Lucarelli al turismo che diceva beh abbiamo talmente insomma tante persone che insomma comunque hanno si sono rivolte alle strutture ricettive di Pesaro e dei comuni vicino mi viene indubbiamente da pensare che se le nostre strutture sono chiuse perché magari gli eventi che riguardano Fano possono essere non so limitati nel periodo invernale ecco più al carnevale o poco altro evidentemente innanzitutto bisognerà iniziare a capire e fare un'azione importante ecco su quello che sono le attività da promuovere nel corso di tutto l'anno a Fano che possano spingere ovviamente chi ha già un'attività ricettiva voler investire e quindi dare loro la possibilità di implementare la struttura stessa e di avere appunto il desiderio di mettersi in gioco è necessaria una visione globale di quello che vuole essere il messaggio che vogliamo portare di Fano da un punto di vista di tutte le attività organizzative ci sono delle persone che proprio qualche giorno fa mi segnalavano che hanno delle strutture ricettive che non sono nemmeno a conoscenza in maniera puntuale di tutto quello che nel nostro comune si viene svolto da un punto di vista delle attività che possano essere sportive, culturali eccetera quindi sarà assolutamente necessario e ci stiamo anche immaginando di come poterlo fare cioè anche attraverso un'app ad esempio dove possano essere indicate tutte le attività che nel comune vengono svolte dallo sport a una gara sportiva, culturale, ricreativa non solo quelle che sono organizzate dal comune o patrocinate dal comune per dare la possibilità ovviamente al cittadino di conoscerlo alle strutture ricettive di promuoverle e soprattutto di mettere in campo un azionato quindi una serie di attività tali che portano le persone a investire a voler ampliare e cercare in maniera puntuale portare il turismo tutto l'anno e quindi non solo in determinati periodi perché fanno alle potenzialità e le capacità per poterlo fare Ecco, auspici per quanto riguarda quindi il turismo e la ricettività Partiamo dalle strutture ricettive è sempre stato un punto come dire d'attenzione in tutti questi anni, in tantissimi anni abbiamo magari delle strutture da rinnovare quindi o da potenziare, questo è indiscutibile però altrettanto indiscutibile che i nostri imprenditori del turismo che ha appunto queste strutture hanno fatto in questi anni anche degli importanti investimenti probabilmente il piano regolatore poteva essere un'occasione per un piano particolareggiato appunto delle strutture ricettive per dare una possibilità di ampliamento e di rinnovamento con nuovi servizi quindi anche con qualche incentivazione sappiamo che il turismo dentro le strutture, dentro gli alberghi non è che finisce solo nella refezione e nell'ospitalità del soggiorno ma ormai le persone cercano servizi aggiuntivi spa, possibilità di avere dei tour all'interno della città penso che Fano abbia tutte le carte in regola per fare questo ma per farlo bisogna appunto che ci siano delle strutture diciamo turistiche in rete a fianco a quelle ricettive mi spiego meglio il museo del carnevale il nuovo museo archeologico il museo della marineria quindi il nostro museo civico cioè tutte le grandi scoperte archeologiche bisogna mettere a terra un piano che possa avere anche con l'informazione se fatto qualcosa anche nelle varie fiere però strutture diciamo ricettive al fianco di strutture museali importanti un'offerta turistica detto questo il mare a Fano adesso perché ho sentito lo difendo nel senso poi diciamo c'è anche come dire degli angoli di Fano che vanno potenziati come può essere quello di Sassogno 2 dove c'è un bellissimo mare e quindi ci sono delle zone che vanno sicuramente riqualificate inoltre anche come dicevo prima le grandi scoperte fatti archeologiche devono essere la Fano romana la Fano malatestiana il museo della Flaminia che è stato lasciato lì come dire abbiamo delle potenzialità enormi in tutto il mondo anglosasso, americano vedono Vitruvio come una grande cosa noi ce l'abbiamo qui potremmo aver trovato la basilica e dobbiamo fare molto molto di più però la città di Fano è una bellissima città che chi è che arriva lo nota e lo dice però Ribella vorrebbe che diventasse ancora più bella Chiudiamo con Sara Cuccherini Allora la nostra coalizione la coalizione del centro-sinistra in questi dieci anni ha puntato molto sull'asse diciamo del turismo-cultura come un'asse strategica ha caratterizzato veramente la nostra azione amministrativa e colgo l'occasione per dare una formazione alla collega Manocchi che un'app c'è già ma non solo c'è un sito sono totem in città dove tutte le iniziative fatte dal comune e dai privati ma anche le informazioni rispetto alle aperture dei musei e tutto quello che può essere utile per il cittadino è già in rete e fruibile e messo a disposizione per questo ringrazio insomma il lavoro del collega Etienne Lucarelli che ha fatto un lavoro grandissimo insieme al tavolo economico con una visione strategica del turismo in quello che è un piano strategico appunto del turismo che è un'azione messa in campo negli ultimi anni che intendiamo portare avanti potenziandola anche nella prossima azione amministrativa con due o tre assi che vanno assolutamente diciamo potenziati uno è la destagionalizzazione entrambi i miei colleghi qui hanno puntato diciamo su questo aspetto che è importante un aspetto sul quale non solo noi abbiamo intenzione di lavorare ma sul quale abbiamo già lavorato abbiamo diciamo investito moltissimo sui grandi eventi cercando comunque di strutturarli di renderli comunque solidi perché possano essere volani di recettività per tutto l'anno penso a passaggi penso comunque a tutte le attività che si fanno ma fanno jazz comunque tutte le grandi iniziative che con noi si sono fortemente strutturate ne cito alcune mi perdonano le altre ma sono veramente tantissime di attività culturali e turistiche abbiamo poi puntato molto e questo mi fa piacere che lo abbia riconosciuto insomma anche Teodosua Spici investendo veramente su progetti che stanno prendendo la luce adesso penso al cantiere dell'Itti che proprio Stefano Marchegiani ha diciamo seguito e sta continuando con noi a seguire ma penso comunque al progetto della marineria diffusa un progetto importante che comprende la restituzione questo è un evento enorme per la città la restituzione alla città del Manfrini il Manfrini da edificio abbandonato della De Magno che nessuno poteva comunque neanche mettere in sicurezza oggi è del comune di Fano abbiamo c'è una gara in corso con un investimento di 2 milioni di euro diventerà il cuore del museo diffuso della marineria dando così un'identità forte alla marineria nella nostra città aggiungo molto brevemente che un'altra cosa importante è l'area di espansione per le attività ricettive che abbiamo provisto nel nuovo PRG e io invito tutti i consiglieri presenti in consiglio comunale a votarlo nella prossima settimana perché ci sarà la possibilità di investire nuove strutture ricettive a Fano Sud ci fermiamo per qualche istante poi torniamo nei nostri studi per Occhio al Voto Bentornati ad Occhio al Voto andiamo avanti con le domande qual è la vostra posizione in merito al futuro di Aset al biodigestore e anche alla discarica di cui tanto si è parlato auspici partiamo da lei a tre minuti di tempo bene tra le occasioni persi da questa amministrazione una molto grave importante è stata appunto il biodigestore mancato anche anche in questo caso si è deciso di non decidere questo è magari una delle critiche e degli stimoli che abbiamo sempre dato all'attuale maggioranza il biodigestore poteva essere doveva essere un volano importante per l'economia di Aset per la città anche per i posti di lavoro era previsto nel piano industriale di fusione io mi piace sempre ricordare visto che sono stato l'ultimo presidente di Aset Holding che ho portato insieme alla servizi alla fusione anche in modo convinto ma per fare qualcos'altro cioè rafforzare Aset quindi e tra questi c'era appunto l'investimento del biodigestore per Fano di un TMB a Pesaro cose che non sono state fatte si è persa una grande occasione nell'economia circolare che tanto decantiamo ma poi quando è il momento non è venuta a compimento noi ce ne faremo carico di questo problema lo riproporremmo prevederlo a Barchi non siamo così d'accordo come non siamo stati d'accordo appunto l'iter procedurale con una manifestazione di interesse che tra l'altro insomma non si capisce a chi fosse rivolta deve uscire dall'isolazionismo anche Aset che in questi anni è stata costretta vediamo e registriamo anche dalle risorse dai dirigenti dagli operai dai lavoratori di Aset che sono anche in tanti della preoccupazione c'è stata appunto come dire è stata un po' congelata l'attività di Aset ci sono delle sfide molto importanti la gara del gas ma tutti gli altri anche come dire servizi di riassegnare una cosa fondamentale sarà la tutela idrica quindi toccherà cominciare a parlare un po' di bacini idrici perché quando poi verrà a mancare l'acqua l'acqua sappiamo che corre tantissimo piogge improvvise corrono dovremo prima o poi pensare dove metterla per non avere crisi idriche diciamo nei mesi più caldi altra questione fondamentale sarà sì certo assolutamente la questione della discarica abbiamo in questi mesi altra responsabilità questa volta della provincia un piano d'ambito che ci ricorda soltanto che entro il 2026 tutte le discariche sono chiuse e poi cosa facciamo cioè è impensabile fare meno di una discarica Monteschiantello è l'ultima che praticamente è rimasta in provincia una grande ricchezza una grande possibilità anche di investimento un ampliamento va discusso e concordato e confrontato fra tutti ma ci metterebbe anche in una grossa e forte posizione anche da un punto di vista economico per un rilancio a livello provinciale di Aset facciamo ripartire il timer Cucchiarini tocca a lei Aset è un'azienda 100% pubblica che in questi anni questa amministrazione ha voluto mantenere tale e io credo che questa sia stata una scelta molto importante e di grande valore al netto di quello che stiamo ascoltando leggendo e vedendo sulla questione di riceci credo che avremmo potuto raccontare una storia diversa oggi se non avessimo se non fossimo stati in grado di tenere il punto in modo così serio e determinato sul futuro di un'azienda che ha bisogno di essere mantenuta sana pubblica nei limiti delle possibilità di ragionamenti futuri sulle partite che diceva anche Auspici perché comunque ci sarà il gas c'è il grande tema dell'acqua sul quale penso che sia opportuno fare una riflessione più che diciamo approfondita prima voglio dire due cose sul biodigestore io sono d'accordo con Auspici sul fatto che avremmo dovuto essere più determinati rispetto a questa scelta ricordo che il partito democratico voleva il biodigestore a Fano erano stati individuati tre diversi siti poi sicuramente diciamo così il decidere di non decidere non ci ha aiutati non è stata la scelta giusta quella di decidere di non decidere questo lo dico con franchezza ma la partita del biodigestore non è chiusa la partita del biodigestore è ancora aperta in un sito che non avremmo voluto neanche noi perché neanche a noi piace pensare di avere un investimento importante di quel tipo che poteva essere a Fano e che doveva essere a Fano per tutta una serie di ricadute anche occupazionali e che invece poi molto probabilmente ci troveremo a Barchi perché adesso attendiamo la risposta del Consiglio di Stato di un investimento che comunque verrà realizzato in cui sarà molto importante che Asset sia parte in causa di questo investimento anche per poter esserci a determinare le tariffe perché ricordiamo se si è dentro le partite si definiscono le cose se si subiscono le partite e si è venduti a pezzi poi magari ci tocca anche pagare per conferire il rifiuto molto caramente penso che una riflessione rispetto comunque ad Asset sia importante anche sulla questione idrica è un tema di grandissimo rilievo di cui si sta parlando troppo poco forse perché magari le responsabilità sono anche regionali mi chiedo io abbiamo due invasi pieni di fanghi li puliamo? Siamo di fronte a una crisi idrica molto importante io credo che la regione dovrebbe insomma impegnarsi in modo veloce a mettersi nelle condizioni di mettere a disposizione due invasi per un territorio che ne ha assolutamente bisogno e poter garantire dei ragionamenti di un'attività anche a livello di ATA che siano comunque rispondenti ai bisogni grazie anche a Sara Cucchiarini Loretta Manocchi passiamo a lei il tema Asset è un tema fondamentale per tutto ciò che comporta da un punto di vista economico e quello che l'azienda rappresenta io però non posso risottolineare quello che il collega auspici ha poco anzi detto sul fatto che si sono perse delle occasioni non sono state adottate delle decisioni nei tempi e nei modi giusti e il decidere di non decidere comunque da sempre l'ordine d'idea di chi amministra e nell'indecisione nella incapacità di prendere le scelte giuste nei momenti giusti abbiamo impedito la fusione con marchi multiservizi oggi però è chiaro che questa azienda facendo dover far fronte a tutta una serie di gare appunto come è stato poco anzi detto per quello che riguarda l'idrico e il gas non può non immaginare di fare delle partnership quindi rimettere in campo delle collaborazioni e questo anche ovviamente afferisce anche e si ricollega anche al tema del biodigestore ma lo si deve necessariamente fare in un processo di trasparenza quindi che che tenga conto di quelle che sono le decisioni da prendere ma renderle diciamo davvero aperte e pubbliche e che tutti ne conoscano i contenuti e quindi indubbiamente è una delle prime partite che l'amministrazione comunale a cui dovrà mettere mano per tutto ciò che questa rappresenta bene ci avviamo verso la fine ancora con un'altra domanda qualità della vita significa soprattutto salute della persona quindi sul tema della sanità Fano credo che abbia perso decisamente troppi treni in questi ultimi anni ecco secondo voi come si può recuperare questo ritardo inizia a rispondere Sara Cucchiarini vi ricordo che il tempo a disposizione è di tre minuti ciascuno prego Sara credo che tre minuti Silvano su questo tema siano anche troppo pochi dovremo parlare qualche giorno in merito alle problematiche tragiche che stiamo diciamo vivendo in queste settimane ormai alla luce del sole completamente sulla sanità nel nostro territorio qualche tempo fa abbiamo fatto una conferenza stampa insomma che è passata un po' in sordina rispetto comunque a un ricorso che il comune di Fano ha fatto alla regione per capire quanti posti letto ci sono assegnati non c'è ancora un atto aziendale di un'azienda nuova che ha visto azzerare con un colpo di spugna due realtà quella territoriale quella sanitaria Marche Nord e l'Asur per crearne una terza che non ha nessuna forma definita che non dà nessuna risposta in termini sanitari e che mette in forte difficoltà i territori oltre che in conflitto tra loro credo che le dimissioni della dottoressa Storti che insomma al quale va anche diciamo la nostra vicinanza siano un atto veramente pubblico di denuncia che dobbiamo prendere in considerazione e che va affiancata alle grandi problematiche che ormai da diversi mesi e settimane vengono dalle fila di chi lavora nell'ospedale io penso che i candidati abbiano fatto un giro a Santa Croce tutti conoscono medici professionisti infermiere os oltre che i pazienti che sono in forte difficoltà abbiamo medici che se ne vanno primari che denunciano insomma situazioni allarmanti e una problematica rispetto comunque alle liste d'attesa che diventa veramente insostenibile io ricordo che questa regione è riuscita a guadagnarsi la fiducia quattro anni fa proprio sul tema della sanità facendo promesse che come dicevamo noi sono irrealizzabili ad oggi sono irrealizzate ma io veramente non credevo che si potesse arrivare a un livello così di danneggiamento del territorio credo che sia urgente denunciarlo la campagna elettorale ci dà anche questa possibilità noi l'abbiamo fatto anche come amministrazione e credo che sia assolutamente importante chiedere risposte perché quello che sta diciamo succedendo io ho modo di collaborare anche con alcuni diciamo con alcuni soggetti della sanità con chi promuove la salute e quello che sta succedendo i pezzi che stiamo perdendo credo che sarà veramente ci vorranno anni per ricostruirli è inutile investire milioni di euro in strutture e mura ma lasciare completamente dai suoi medici che se ne vanno in altri territori mettendoci nelle condizioni di perdere grandi professionisti che vanno assolutamente ringraziati e tenuti nel territorio bene grazie la parola a Loretta Manoli bene le domande che la collega Cucchiarini pone le dovrebbe porre a quelli del suo partito io ero in consiglio comunale tanti anni fa a Fossombrone e ricordo quegli anni in maniera drammatica tragica dove si smantellavano gli ospedali si chiudevano gli ospedali in direzione dell'ospedale unico con la giunta Quaroli si è avuta una inversione di rotta completa mantenendo i presidi ospedarielli sul territorio cercando di potenziarli e cercando di fare retrofronte su tutto quello che era già il processo iniziato da tempo e da anni dello smantellamento quindi se fosse continuata quella politica oggi Santa Croce era la chiusura se non definitivamente chiuso invece siamo a mantenere un presidio ospedaliero fondamentale per la città gli atti aziendali mercoledì in commissione quindi fra due giorni verranno adottate in commissione sanitaria alla regione Marche le linee guida degli atti aziendali e poi torneranno alla giunta non c'è nessun ritardo su questo processo ci sono stati più tavoli di concertazione chiaramente con tutti i sindacati medici e quindi con tutte le parti in causa per appunto adottare queste linee che andanno all'approvazione le dimissioni la lettura che si dà delle dimissioni della dottoressa Stortia sono una lettura di carattere squisitamente personale se ne dà una lettura secondo me distorta perché ovviamente credo che sia più che legittimo che una persona possa rassegnare le dimissioni per motivi personali anche in vista di un prepensionamento e quindi questo va assolutamente ditto dall'altro canto c'è un potenziamento non possiamo non ricordare tramite gli assessorati nostri dal punto della regione quindi l'assessore Baldelli importanti investimenti per la nostra struttura come la palazzina delle urgenze emergenze il nuovo hospice pediatrico e la nuova progettazione del blocco B qualche giorno fa abbiamo inaugurato una nuova risonanza magnetica ecco quindi mettendo in campo un'azione diretta a mantenere i servizi sul territorio mantenere i servizi sulla nostra città che è appunto quella di Fano per cui la rutta era completamente diversa quindi da una parte sorprende che oggi si parla appunto dell'ospedale Santa Croce quando davvero fino alla precedente giunta regionale la direzione era quella della chiusura del Santa Croce perché questo va assolutamente detto per quello che riguarda anche la formazione dei medici non è una cosa di poco conto un tema è quello del numero chiuso presso le università ma l'altro tema sono le borse di studio che vanno a formare medici di medicina generale specializzati che siamo la giunta Quaroli da due borse di studio finanziate oggi intorno verso il 2026 leggevo che proprio qualche giorno fa dovremmo arrivare tempo Silvano bene grazie chiudiamo questo giro con Teodosia auspici beh sì diciamo che l'argomento vero di questa campagna elettorale è proprio la sanità la sanità che dove dove andiamo ricordo sempre il nostro tour nei quartieri con Stefano Marcheggiani è un tema che è al numero uno ecco a questo punto io direi che giustamente anche il centro-destra come dire deve smetterla di di parlare di sicurezza giusto per deviare un po' l'attenzione il tema più importante è è la sanità la sanità che giustamente concordo è storia che è stata persa la regione quattro anni fa il centro-sinistra l'ha persa sulla sanità però questa è storia oggi ci sono da quattro anni c'è il centro-destra che governa e quindi si deve assumere le proprie responsabilità responsabilità che parlano di lista d'attesa sei mesi un anno nemmeno risposte cioè le cose più vicine ai cittadini che non sono assolutamente arrivate poi dopo senz'altro alcune attività sulle infrastrutture anche per ragioni elettorali io dico si stanno facendo ci mancherebbe altro però è indubbio che il cittadino fanese teme per la propria salute interventi strutturali sul nostro territorio non li abbiamo visti sappiamo che ci sarà il nuovo ospedale di Pesaro ma Fanno è totalmente dimenticata spogliata dei reparti e sappiamo benissimo non sappiamo dove che fine hanno fatto i 50 posti di ortopedia che ci aspettavano se non forse che vanno alla clinica privata di Villa Fastigia a Pesaro quindi il cittadino chiede delle risposte chiede delle risposte che da questo centrodestra regionale non stanno arrivando noi cosa cosa vogliamo fare sicuramente dovremmo dovremmo essere anche qui un pungolo verso l'amministrazione regionale per riportare l'attenzione sul nostro territorio giustamente tutti gli ospedali ordinari della provincia sono stati e devono rimanere aperti Pergola Fossombrone Cagli è giusto che ci sia una sanità di prossimità Fano deve diventare un centro specializzato per la medicina generale non possiamo permetterci di dubbioni con la chirurgia che è a Pesaro quindi dobbiamo anche far scelte responsabili ricollegarci con l'università di Ancona come era storicamente la città di Fano proporre servizi all'avanguardia ai nostri cittadini e poi RSA non se ne parla Fano ce n'è bisogno ci sono anche i CAU i centri di assistenza per l'ugenza altre regioni l'hanno fatto il primo intervento sul territorio noi abbiamo un territorio di 121 chilometri quadrati Fano ma noi siamo il terminale del due Vallate Cesana e Metauro quindi dobbiamo avere qualcosa in più bene l'ospice pediatrico assolutamente importante e inoltre anche a fianco della fondazione per un centro dell'Alzheimer Bene grazie e passiamo ora all'ultima domanda per restare sempre in tema di vivibilità in quali settori pensate di intervenire e quali proposte concrete avete per migliorare la qualità del nostro ambiente avete a disposizione due minuti ciascuno inizia Loretta Manotti Sì sicuramente il tema delle piste ciclabili è un tema essenziale per pista ciclabile per pista ciclabile non si può immaginare una semplice segnaletica apposta su un manto stradale ma deve essere tale che in qualche modo tuteli e mette in sicurezza più che tuteli il ciclista questo lo dico perché ad esempio via Dante Legheri è proprio testimone di questa pista ciclabile con un segno tracciato sul manto stradale che viene percorsa ad altissima velocità e nei pedoni prima e i ciclisti poi si sentono sicuri questo è un tema che va incontro alla sostenibilità ecosostenibilità e all'ambiente in generale con azioni anche mirate perché ci sono delle richieste per quello che riguarda anche i cassonetti della differenziata lo stesso porto è da più tempo che ci segnala che fa appunto avanzato una richiesta in ordine per la raccolta delle reti e della plastica e quindi per poi poterle smaltire e non da ultimo una differenziata puntuale peraltro penso a diciamo comuni limitrofi che adottano anche il sistema del badge e credo che anche fanno di mettersi nelle condizioni diciamo di andare verso quella direzione e non da ultimo immaginare anche per quello che riguarda tutto un progetto e una pianificazione di piantumazione che risponde a diciamo alla tutela ambientale e a una maggiore vivibilità diciamo della città di Fano auspizi il tema è molto ampio sicuramente l'amministrazione comunale dovrà farsi carico diciamo di costruire e dare delle risposte anche a quelle che sono il problema climatico che attanaglia il mondo nel suo piccolo bisogna anche far vedere qualcosa quindi ci devono essere devono essere stimolate l'uso di fotovoltaico di comunità energetiche per ridurre l'uso degli idrocarburi c'è la necessità di ridisegnare dal punto di vista del verde per abbassare anche la CO2 tutti interventi molto importanti ambientali fare un corridoio una cintura di Fano dove si deve ripensare alla ripiantumazione di alberi è importante portare a termine anche il parco del campo di aviazione dieci anni passati non è venuto alla luce nulla ed inoltre tutte quelle aree diciamo risorse che potevano dare anche una risposta alla città di Fano proprio per la vivibilità per il traffico altro problema non si potrà non prendere in mano uno studio competente uno studio aggiornato di viabilità che conti le macchine perché a Fano in determinati arari non si passa più bisognerà intervenire però ritorno all'erre risorse mi riferisco alla caserma che col pianerare probabilmente qualcosa in più si poteva fare anche per anche per la costruzione di parcheggi scambiatori incentivare l'uso dei mezzi pubblici mezzi pubblici meglio elettrici però bisogna farle queste cose il Vittorio Colonna è rimasto lì non si è fatto niente anche quello poteva essere un punto al centro di Fano nevragico per dare una risposta a determinati problemi di vivibilità e poi il grande patrimonio ritorno del comune che può essere anche come dire dato ad Aset in una funzione di trasformazione urbana per dare accoglienza a case perché la qualità e la sicurezza di cui prima parlavamo passa proprio per questo quindi anche un piano casa per i lavoratori chiudiamo con Sara Cuccherini una domanda che mi dà la possibilità di dare una risposta abbastanza ampia e vorrei dire che penso che una delle cose sulle quali avevamo iniziato a lavorare su questa amministrazione che poi hanno lasciato il posto invece a altri 50-55 cantieri peraltro alcuni del PNRR lo abbiamo lasciato un po' da parte è una grande infrastruttura sostenibile sul quale credo che la prossima amministrazione nei primi 100 giorni debba mettere proprio a terra tutto quello che serve per realizzare in tempi brevi è la realizzazione della ciclovia adriatica cioè il collegamento che ci dà la possibilità di andare da Pesaro a diciamo Senigallia in bicicletta quindi questo darebbe la possibilità di una fruizione delle spiagge e anche la raggiungibilità delle città limitrofe in un modo completamente diverso la possibilità di fruire anche di alcuni locali delle strutture balneari in modo diciamo sostenibile che insomma credo che interesserebbe moltissimi giovani ma tutta la cittadinanza che ha piacere di muoversi in modo sostenibile un investimento dovremmo fare di maggiore attenzione anche se diverse cose sono state fatte sull'ambiente condivido che è una partita sulla quale non si può più rimandare scelte importanti e investimenti importanti anche perché comunque l'Europa ci dà segnali e la possibilità di farlo le comunità energetiche sono una cosa sulla quale dobbiamo assolutamente lavorare a cantenacia l'ambiente però significa tante cose significa valorizzare anche la vivibilità tra i cittadini quindi anche una cultura del rispetto penso comunque a un nuovo piano di zonizzazione acustica che dobbiamo assolutamente mettere a terra in questa città perché c'è un po' di autonomia mentre i cittadini chiedono più puntualità e chiudo in merito alla caserma Paolini sul quale abbiamo tanto lavorato personalmente sono cinque anni che ci lavoro e attendiamo a giorno una risposta che speriamo di potervi dare positiva grazie a tutti e tre siamo arrivati al termine di questa terza puntata di Occhio al Voto ringrazio il saluto Teodosio Spigi di Verdi Ribella componente della coalizione progressisti per Fano 2050 Sara Cucchiarini del Partito Democratico per la coalizione di centrosinistra e Loretta Manocchi di Fratelli d'Italia Fano coalizione di centrodestra un ringraziamento anche al giornalista Silvano Clappis grazie per essere stato con noi Occhio al Voto torna lunedì prossimo 22 aprile quindi non resta altro che augurarvi una buona serata